E arrivò anche il giovedì, eh sì, giovedì di 13 giugno 2024 qui in diretta con voi, io sono Fabio Ranfi, questa è Crystal Radio e siamo qui con Good Morning Milano. Come va? Come state? Cosa state facendo di bello? Siete già pronti a iniziare la giornata? Avete già aperto gli occhi? Ci state ascoltando con gli occhi ancora chiusi la stanza buia? È difficile però la stanza buia ormai la mattina a quest'ora perché c'è già luce che ti entra da qualsiasi pertugio nelle vostre stanze e nelle vostre case. Comunque siamo qui pronti per due ore di musica, di notizie, di compagnia che ci fate voi a noi soprattutto così per passare appunto la mattinata insieme. Oggi dicevo 13 giugno, vi ricordo che questa sera, lo ricordo con piacere perché è un'iniziativa fatta in collaborazione con Crystal Radio, alle 20.30 all'Istituto Pedagogico della Resistenza in Via degli Anemoni ci sarà il The Chorus Summer Night, un'importante serata molto bella, interessante con questo coro, il The Chorus appunto, che si esibirà all'Istituto Pedagogico della Resistenza, ingresso a offerta libera, quindi insomma vi aspettiamo. C'è scritto anche, il concerto sarà comprato da un rinfresco, quindi insomma quelli come me, li lasciano stare, cosa vuol dire, sanno anche per quale altro motivo andare, oltre alla bravissima e bella musica che appunto ascolteremo cantata dai The Chorus. The Chorus Summer Night, questa sera alle 20.30 appunto, all'Istituto Pedagogico della Resistenza, Via degli Anemoni 6. Angelina Mango, la noia, 7 e 12 minuti, iniziamo appunto la nostra mattinata insieme, questo è Good Morning Milano, Crystal Radio 96.2 FM, Dub Plus, le applicazioni per iOS, Android e i siti internet a crystalradio.it e poi se volete invece riascoltare tutto, rivedere anche i momenti più saglienti, gli highlights della nostra trasmissione, goodmorning.milano.it. Grazie ad Alberto per il suo WhatsApp al 33178535555, buongiorno, buongiorno a te. Con l'arrivo dell'estate, si spera, è vero, sì, e il miraggio delle vacanze aumentano i ritmi di lavoro come se non ci fosse un domani, tipo il periodo prenatalizio, è vero, effettivamente in questi giorni tutti che devono, eh, devo chiudere, devo chiudere entro giugno, no, sì, devo chiudere l'annualità, devo chiudere il trimestre, tutto così, tutto che devo chiudere, oppure, oppure ci sono quelli che dicono, no, va bene, sì, però ci risentiamo a settembre, cioè, è già un paio di settimane che ci risentiamo a settembre. Per fortuna, la mattina in radio c'è Fabio e la redazione che ci tengono compagnia, e sì, siamo qua, siamo qua anche noi, in realtà, col miraggio delle vacanze, perché se ricordiamo che il 28 giugno chiudiamo la stagione, quindi chiudiamo gli ombrelloni e ci andiamo ad aprirli in un altro lido, in un'altra spiaggia, poi da poi, comunque, a settembre siamo qui, tranquilli, ragazzi, siamo qua, siamo qui. E visto che arriva l'estate, insomma, il miraggio, almeno, di quest'estate, molti di voi avranno pensato, beh, dai, che bello, finalmente possiamo andare nelle piscine, no, in giro per la città, ci sono le piscine, quelle di Milano, no, le piscine di Milano Sport, che ci sono anche quelle aperte, no? E allora vado a leggere un articolo da Milano Today. La moria di piscine scoperte a Milano, quest'anno tre aperte su otto, la maggior parte è chiusa per ristrutturazione, riapriranno tra il 2025 e il 2026, per ora gli unici che saranno aperte, cioè le comunali aperte, sono la Romano, la Cardellino e la Santa Bondio. Eh sì, sono state aperte con una settimana abbondante di ritardo rispetto al solito, le piscine scoperte comunali di Milano, gestite appunto da Milano Sport. Il ritardo è ovviamente dovuto al perdurare di una situazione meteorologica non favorevole. Il mese di maggio, pensate, è stato uno dei più piovosi di sempre in città, dopo anzi andremo a leggere. I cancelli sono comunque già aperti in tre impianti, i sopravvissuti però rispetto ai ben più numerosi accessibili fino a qualche anno fa. Al centro balneare romano, che è zona città studi, ad esempio ormai si può andare, no, che è via Zanoia, ok, quello lì, perché a me mi piace, lo chiami romano, uno si aspetta che sia in porta romana o da quelle parti lì, no, è invece in città studi. Le altre piscine attive, quali sono? La Cardellino, vi ho detto appunto, e la Santa Bondio, che rimarranno aperte fino al primo di settembre, ok? Quindi rimarranno sempre aperte, invece per quella Romano andate a vedere perché c'è una lista di date, dall'X all'Y sono aperte ma fino a quell'ora, poi dall'X, niente a me. In tutto questo, quindi, chiuse Argelati, Lido, Saini, Suzzani e Scarioni, che avevano appunto un destino completamente diverso. La Scarione, ad esempio, è stata presa in carica la società spagnola Inge Sport con un progetto di partenariato pubblico-privato e sarà interessato da un ingente intervento di riqualificazione con anche vasche coperte, scoperte, spider, terapia, ma tutto questo significa che al momento sono chiuso. Il Lido anch'esso, pensate, chiuso dal 2019, la riapertura è prevista per il 2025, la Suzzani invece è stata, cioè i lavori sono quasi finiti, ma c'è un rallentamento appunto per le riaperture tutte, quindi si riaprirà nel 2025. Quindi al momento solo Romano, Cardellino e Sant'Abbondio. Charlie Poof, light switching, slide twitch, accendi e spegni l'interruttore della luce, ecco la traduzione. Comunque, avete capito? Se dovete andare in piscina, cercatevi, volete andare in quelle di Milano Sport, quelle comunali, aperte, controllate bene perché sono solo tre quelle aperte, quindi dovete, cioè, guardate bene quali sono quelle, guardate bene gli orari, Romano, Cardellino e Sant'Abbondio sono le uniche tre aperte, mi raccomando, eh. Va bene, invece, perché per lavori, mi è detto, no, perché stanno facendo i lavori, stanno restrutturando, insomma, Milano, sapete, tutto in rigenerazione ormai, praticamente da sempre, cioè, ormai dal 2015 in poi è una rigenerazione continua, un rendere in continuo, e tant'è che ovviamente arrivano anche Corso Buenos Aires, Repubblica Milano, in Corso Buenos Aires parte il Cantiere Verde, come diventerà la via regina dello shopping a Milano, lavori dall'estate e poi per un anno, e mezzo, alberi ai uole, zero barriere architettoniche, asfalto rosso per proteggere la pista ciclabile, i rendering svelano la strada dopo la riqualificazione con 1,5 milioni di euro dei fondi PNRR. È stata presentata a Milano, in sede di Commissione Mobilitaria del Municipio 3, il progetto di riqualificazione di Corso Buenos Aires, che poi mi piace, lo presentano, cioè, che fatica però, allora, dicono, lavori dall'estate, quindi l'estate inizia fra una settimana, ok, lavori dall'estate per un anno e mezzo, e cosa fanno? Presentano adesso il progetto di riqualificazione, magari era interessante presentarlo prima, così che magari si dicesse sì, no, ma forse c'è, niente, lo presentano, facciamo così, punto, va bene. Dopo pochi anni di polemiche in Buenos Aires, quindi come sempre fare le cose in modo che tutto funzioni bene, cioè già ci sono delle polemiche pazzesche su cose assurde, lo so, ma ci sono le polemiche, cioè se la gente deve polemizzare sul cordolo di cemento della pista ciclabile in Buenos Aires, perché è, scusatemi il termine, imbecille quando guida non vede un cordolo di cemento, lo so che è una perdita di tempo, però devi farlo comunque, perché sono quelli che poi useranno quella via. Poi, tra parentesi, vorrei dire anche, non è che la maggior parte della gente non è capace, è imbecille, è stupida, no, sono pochi che sui social, soprattutto e magari pompati da qualcuno di qualche parte politica, cavalcano, o meglio, scavalcano il cordolo, ok, quindi è solo quello. Comunque, finalmente, appunto, inizieranno i lavori e per un anno e mezzo ci sarà ovviamente il caos, sicuramente, ma poi avremo una corso Buenos Aires che ci fa invidia, che le Champs-Élysées, ma cos'è, in confronto, comunque, lavori, appunto, finanziati da un milione e mezzo di euro dei fondi PNRR, partiranno entro l'estate, appunto, e avranno una durata di circa un anno e mezzo. Come succederà, allora, dopo che la ciclabilia è già stata riqualificata a un minimo nel 2023, si procederà quindi cosa? Con l'allargamento dei marciapiedi, l'inserimento di aiuole e i piantumazioni. Sappiamo che però, adesso vedremo poi, c'erano delle discrepanze tra un lato destro e lato sinistro, cioè, da una parte volevano mettere i vasi, dall'altra invece fare delle vasche o una cosa del genere, mettere la terza, cioè, beh, comunque, adesso vedremo come hanno risolto con il rendering. L'inserimento a aiuole e i piantumazioni, di cui, appunto, le dimensioni variano a seconda dello spazio disponibile. Poi ci sarà tutto un lavoro sui sottoservizi presenti e, soprattutto, un rifacimento della soletta della linea M1, perché sotto lì c'è praticamente attaccato il pavimento. Se tu scavi con un cucchiaino, vedi i treni passare, praticamente, perché è fatta quasi a livello stradale l'M1 lì sotto. Vi ricordo che è roba degli anni Sessanta, fin anni Sessanta, quel tratto di M1, quindi ci sta che, insomma, non sia proprio fatta con tutti i crismi di oggi. Poi cosa succede? Cosa faranno anche? Si pianteranno, appunto, alberi di altezza non superiore a 5 metri e, invece, negli altri casi saranno piantati degli arbusti nelle iuole dotate di sistema di irrigazione. Mi raccomando, cioè, dobbiamo sottolineare che c'è l'irrigazione. L'intervento con la depravimentazione e l'inserimento di spazi verdi vedrà anche effetti positivi nel contrastare l'isola di calore, ma dai. Lungo il corso saranno poi presenti posate panchine e rastregliere per la sosta bici. I lavori riguarderanno il tratto di corso Buenos Aires che va da Piazza Oberdan a Via Piergolesi. Da Piazza Oberdan a Via Scarlatti saranno realizzati dal comune mentre da Via Scarlatti a Via Piergolesi l'intervento sarà realizzato a scomputo oneri da due soggetti privati. Cosa si capisce? La fase del genere è assolutamente niente. Per quanto riguarda, invece, il tratto a carico del comune si procederà in diverse fasi prima sul lato civici pari e successivamente su quello dispari. Ecco, forse, anche perché dura tanto nel senso che non è che si chiude Buenos Aires. Io poi non lo so. Queste cose qua, io sono sempre molto scettico da una parte e dall'altra dico io gioco a SimCity quindi non è che sia proprio la persona più adatta a fare un'area di urbanistica. Lì, se sbaglio, schiaccio un pulsante e rifaccio la strada. Capisco che nella realtà è un po' diverso. Aveva più senso chiudere tutto e magari in sei mesi si portava a casa il risultato però sei mesi i negozi come fanno? Cioè, effettivamente c'è anche questo. Mi interesserebbe capire se ci sono nel milione e mezzo del PNRR anche dei fondi magari appunto per le attività che indubbiamente avranno dei disagi. Adesso non dico che non andrà più nessuno a prendere il gelato nella gelateria in Corso Buenos Aires però non sarà così semplice. Sicuramente ci sarà un impatto molto forte sulla città quello sicuramente. l'idea di rivivere Corso Buenos Aires in un'altra maniera è interessantissima bisogna capire come la facciamo a capire i cittadini nel senso che vi dico la mia forse per me dovrebbe essere un viale pedonale quello proprio direttamente perché? Perché non dovrebbe essere un'arteria di ingresso alla città nel senso che non dovremmo entrare fino a quel punto dentro la città però già questo mi sembra un ottimo primo passo verso una idea di città un po' meno automobilistica e un po' più semplicemente per tutti i cittadini. Qualcosa di nuovo l'olio e l'onions è Sandro Canors Away questo invece era Eglio Storie Tese con il pippero alle 7.35 minuti si fa un salto nel passato quando senti questa canzone è un doppio salto nel passato si salta quando era uscita questa canzone no? quindi gli anni della mia gioventù e poi ha quelle citazioni finali con quell'elenco di canzoni degli anni 70 che vabbè sono la musica che invece ascoltavano gli Eglio e le storie tese appunto quando erano loro super giovani citando un'altra loro canzone appunto super giovane comunque ve l'ho detto prima tra le righe della notizia come dicevamo che appunto le piscine comunali hanno dovuto ritardare l'apertura quest'anno per via della pioggia so anche di persone che hanno la piscina in casa che l'hanno dovuta aprire in ritardo quindi mi spiace per loro è stata l'unica consolazione a questo tempo sapere che chi è tanto ricco non ha dovuto aprire la piscina in casa anche pensate appunto che disastro si allunga la stagione diciamo delle piogge e quindi il comune di Milano che magari fa anche delle operazioni dove immagina di poter fare delle iniziative apre le piscine fa anche qualche soldo in più durante l'anno e niente ha dovuto rimandare di una sola settimana però comunque ha dovuto rimandare l'apertura delle piscine comunali perché perché e leggiamo da Corriere della Sera Milano Milano dice proprio che la primavera 2024 è stata la più piovosa di sempre caduti 647 millimetri la media era 237 giorno record il 15 maggio dove sono caduti solo il 15 maggio 103 millimetri di questi 647 totali temperatura media della stagione è stata di 15,3 gradi l'estate che tarda ad arrivare dopo una primavera che è stata la più piovosa di sempre così appunto dice il Corriere della Sera citando però l'ultimo report della fondazione UMD cioè l'osservatorio meteorologico Milano Duomo ETS tra il primo marzo e il 31 maggio periodo appunto della primavera meteorologica sono caduti 647 647 millimetri di pioggia contro una media del trentennio di riferimento dal 91 al 2020 la media era di 237 virgola 5 237 di media 600 ben detto non sono perso 647 ok media 237 era questa caduti invece in questo periodo 647 millimetri record di pioggia che è stato raggiunto grazie alle precipitazioni di marzo e di maggio aprile invece è stato un mese che è stato leggermente più piovoso degli altri ma neanche di più sono solo 10 millimetri in più rispetto alla media ma c'è questo 15 maggio che la fa da padrona perché il 15 maggio sono scesi in città sulla città 103,6 millimetri di acqua che è stato appunto il giorno più piovoso dell'ultimo trimestre nonché il giorno di maggio più piovoso degli ultimi 128 anni vi piacciono questi record? ecco prendiamoli un po' con le pinze perché poi in realtà io vorrei andare a vedere le statistiche la media è la media un po' del pollo a volte nel senso che non vorrei dire non sbagliano i conti anzi e secondo me è allarmante come dato soprattutto nel pensare a una città come costruire una città nel futuro nel senso che devi costruirla sì devi rigenerarla sicuramente ma devi rigenerarla in modo che se cade l'acqua l'acqua trovi il luogo dove andare non che finisca invece nelle cantine delle persone o nelle strade o vada ad allagare qualsiasi cosa quindi prendiamo un po' i dati così ma cerchiamo di capire insomma che il problema sicuramente esiste e persiste The Colors con Karma a proposito di Operazione Nostalgia secondo me deve essere il sottotitolo di The Colors Operazione Nostalgia cioè avete visto il videoclip di sta canzone con un fiorello di oggi che fa il fiorello di ieri in un finto karaoke in piazza con il palco il pubblico lui che con il microfono in mano il vestito tinta unita tipo fucsia rosa pink comunque un colore del genere i The Colors che cantano con sotto proprio il testo della alla karaoke anni 90 di Fiorello cioè proprio un'operazione Nostalgia in tutto girato con un sembra di vedere una puntata di Taglia 1 del 97-98 cioè qualcosa del genere nel senso anzi anche prima anche 92-93 comunque è un'operazione che sta funzionando cioè The Colors hanno preso tranquillamente a mani basse prendono da quel momento lì e lo fanno loro lo fanno loro tra parentesi funziona c'è poco da fare nel senso che c'è da dire che funziona punto c'è poco da dire la nostalgia sempre cioè l'operazione Nostalgia funziona sempre abbastanza bene e in questo caso loro lo fanno sia musicalmente comunque strizzano l'occhio un po' alla fine anni 80-90 ma soprattutto lo fanno anche così in maniera proprio visiva nei loro videoclip nel loro modo di vestire spesso e volentieri nonostante ad esempio Stascio il cantante dei Decollo sia nato nell'89 quindi non è proprio un cioè le ha vissute proprio da veramente è molto più un immaginario di quando era piccolo che forse viene riproposto o secondo me è molto più facile che invece sia un immaginario di marketing che viene riproposto al pubblico dei Decollo perché il pubblico dei Decollo non è un pubblico fatto solo di giovanissimi anzi è un pubblico abbastanza eterogeneo che arrivano noi ricordiamo i Decollo arrivano da quel mondo lì di amici quindi insomma è un pubblico che sì fatto di giovani che guardano quella roba lì che guardano la televisione che guardano tipo di programma ma anche di trentenni che comunque seguono quel filone e anche magari a volte anche di quarantenni che insomma seguono quel tipo di trasmissione e poi si appassionano a questi a questi gruppi quindi insomma insomma andate a vederlo su youtube c'è il videoclip di Karma dei Decollo sull'ultima canzone è interessante come operazione operazione nostalgia queste funzionano sempre da Milano perché si incollarono a una statua di Boccioni al museo del novecento assolti i cinque giovani di ultima generazione per il giudice il fatto non sussiste parliamo di un blizza del luglio del 2022 uno dei ragazzi dice anche queste azioni rendono il nostro pensiero più diffuso alla base cosa c'è c'è una motivazione molto interessante perché il giudice dice hanno toccato si sono incollati al basamento non all'opera per questo il fatto non sussiste perché questo è quello che dice il gruppo Daniela Clemente che ha assolto in rito abbreviato i cinque attivisti di ultima generazione che nel 2022 mi fa ridere in rito abbreviato poi nel 2022 va bene però c'è stato le indagini il processo si era stato fatto in rito abbreviato nel 2022 si erano incollati alla statua di Boccioni al museo del novecento la procura li aveva accusati di danneggiamento e quindi niente il fatto non sussiste perché non è stato danneggiato assolutamente niente siano solo incollati al basamento e quindi qui insomma si fa si sarà sicuramente di grande polemica intorno a questa a questa sentenza però insomma si danno dei punti ben precisi su cui muoversi anche nel giudicare diciamo future azioni o azioni che sono già state fatte ma che ci siamo persi diciamo nei meandri della giustizia exotago solo una canzone ed è quella anche una canzone sola quella che ci divide dal giornale radio che arriverà fra poco non prima però di degervi questa notizia che prendiamo da Corriere della Sera Milano Milano Linate nasce l'Airport District con un accesso diretto all'idroscalo dalla fermata la M4 e sì il LAD Linate Airport District una piazza 14.000 metri quadrati di verde urbano edifici adibiti a uffici e servizi per circa 24.000 metri quadrati 14 più 14 è praticamente il doppio del verde comunque e un hotel a 4 stelle da 220 camere questi sono appunto i numeri di LAD il Linate Airport District che sorgerà nell'area adiacente l'aeroporto milanese e antistante all'idroscalo tra parentesi ci sarà anche un accesso diretto all'idroscalo lo scrivono ovunque su tutti i giornali c'è scritto questa cosa qui come se fosse un cancelletto che passa di là sembra che hanno fatto il ponte sullo strato di Messina comunque va bene il progetto è stato presentato da SEA e Costim come dicevo avrà 130 milioni di euro più o meno per la sua realizzazione dell'intero progetto e sarà appunto attaccato a Linate con un accesso diretto all'idroscalo dalla fermata di Linate della M4 quindi si arriverà all'idroscalo con la metropolitana tutti contenti? io ma chi ti vuole? cioè qualcuno di noi va ancora all'idroscalo? io non so è completamente la parte opposta della città io non sono mai andato all'idroscalo praticamente a fare l'estate milanese come fanno molti si sono andato al Magnolia ai concerti così ma all'idroscalo per dire vado una giornata all'idroscalo non credo l'ho mai fatto in vita mia forse una volta con agosti 10 anni ecco non di più mi chiedo se qualcuno di voi lo fa cosa andate a fare all'idroscalo? me lo raccontate? 331 7853 555 vi è mai capitato di andare a fare la giornata all'idroscalo a prendere il sole a fare c'è lo skate park credo non so cosa si va a fare all'idroscalo? si può fare il bagno all'idroscalo? non penso neanche che non ci sia neanche la possibilità di fare balneazione perché le leggende degli anni 80 dicevano che entri lo scalo la corrente ti succhia ti porta via non ti ritrovano più per 200 anni quindi insomma non lo so questo è quanto ditemi se ci andate 331 7853 555 8.05 ben ritrovati questo è Good Morning Milano Crystal Radio in diretta su 96.2 FM sulla DAB Plus in tutta la Lombardia e anche sulle applicazioni per iOS e Android oggi è giovedì è il 13 giugno ma soprattutto è giovedì e quando il giovedì siamo qui a quest'ora è perché parliamo di teatro insieme a Tamara Malleo buongiorno Tamara buongiorno buongiorno Fabio buongiorno agli ascoltatori e agli ascoltatrici di Crystal Radio e di Good Morning Milano allora come va? bene bene tu Tamara come va? oggi mi sono svegliata con questa luce non è non è non è non sembra sembra strano visto che ci svegliamo con la pioggia ultimamente insomma però magari la pioggia ci aiuta ad entrare ancora teatro no ma teatro si entra sempre infatti questa pioggia non ci aiuta a fare niente non aiuta nulla nulla neanche l'agricoltura mi hanno letto che insomma è un disastro anche per l'agricoltura non aiuta niente non aiuta niente questa pioggia lo so lo so però è così riflettere su tutta questa pioggia ma non solo sulla pioggia e quindi per entrare dentro queste riflessioni mattutine che come sempre sai saranno leggerissime dici pure dove ci porti allora vi porto in tre teatri molto diversi molto distanti fra loro con dei temi che però due dei temi si collegano tra loro allora iniziamo subito con Teatro Fontana siamo in zona isola si può raggiungere sia con la metropolitana gialla fermata a Zara o con la metropolitana lilla fermata a Isola quindi dipende da dove arrivate o con la 92 quindi con la circonvallazione con la linea che percorre la circonvallazione allora Teatro Fontana in via Boltraffio ultimo spettacolo diciamo così della stagione ufficiale I Masnadieri è una produzione di Elsinore che è la diciamo così la compagnia del Fontana e con la regia di Michele Sinisi che è un regista che lavora moltissimo col Teatro Fontana e con Elsinore I Masnadieri è un'opera di Schiller quindi stiamo diciamo così alla fine dell'ottocento scusami alla fine del 1781 quindi siamo in un'epoca molto lontana da noi ma in realtà come sappiamo i grandi classici attraversano il tempo Michele Sinisi ci ha abituato a prendere i classici e a riattraversarli in questo caso la vicenda è quella di un padre e dei suoi due figli si racconta appunto la storia di uno di questi due figli che è quello che si sente il meno amato della famiglia farà di tutto per screditare e eliminare il fratello che invece è quello che viene più considerato all'interno del sistema familiare e attraverso delle azioni anche violente e questo spinge il fratello appunto diciamo così tra virgolette preferito a mettersi a capo di una banda di facironosi e quindi si innesta un meccanismo di violenza che porta a delle esasperazioni assolute e quindi si riflette anche su da dove nasce la violenza e dove può portare un atto di violenza anche partendo da un sistema appunto familiare quindi sono in scena fino al 23 di giugno quindi c'è tutta la prossima settimana per poterli andare a vedere al Teatro Fontana in via Boltraffio allora poi adesso ci spostiamo ci spostiamo in un teatro che ormai diciamo così è per noi molto familiare che è il Teatro Elfo Puccini si trova in Corso Buonas Aires quindi si raggiunge facilmente con la Metropolitana Rossa fermata Lima o fermata Porta Venezia e si sta diciamo così ultimando la rassegna Nuove Storie firmata da Francesco Frongia tutto incentrato sul tema diciamo così delle sul tema femminile declinato in forme molto diverse in questo caso stasera e domani sera ve lo consiglio perché l'ho visto io l'altra sera Monologo di una buona madre è uno spettacolo molto intenso con Lea Berletti e Werner Bass che sono una compagnia che appunto si occupano di lavorare moltissimo sulla parola e in questo caso la parola la parola è sviluppata sul tema appunto della buona madre che cosa è la buona madre dove ci si spiega il senso di inadeguatezza della fallibilità della creatività del tempo e di cosa è una donna rispetto al tema della madre quindi quanto si annulla la sua essenza di donna per entrare dentro il senso di madre e se esiste ancora una volta che ha avuto dei figli se esiste ancora come donna ed è un tema molto interessante in questo caso non c'è assolutamente nulla in scena se non lei Lea Berletti quindi la parola viene esaltata ancora di più c'è un lavoro anche sul suono e sulle ombre e quindi sull'idea della moltiplicazione dell'immagine di una donna nel suo ruolo di madre attraverso forme diverse quindi è veramente un viaggio interessantissimo peraltro molto impegnativo per l'attrice perché dura un'ora e venti di monologo e quindi è molto intenso però vi assicuro che è un viaggio che vi porta in una riflessione sulla maternità che va al di là di quello che solitamente sentiamo sul tema maternità e sempre sul tema maternità quindi in questo caso siamo all'Elfo Puccini in Corso Buenos Aires stasera e domani sera invece ultimo appuntamento per questo nostro incontro andiamo ad Olinda e quindi ci troviamo negli spazi dell'ex ospedale psichiatrico Pini siamo in zona Afori quindi si può raggiungere con la metropolitana fermata Afori ma siamo all'interno della rassegna nessuno da vicino nessuno è normale che si svolge appunto ad Olinda tutti gli anni da ormai più di 25 anni quindi è un festival che poi potete appunto trovare su su internet trovate tutto il programma sul sito di Olinda ed è un programma molto interessante perché appunto si sviluppa sul tema su temi vari legati in qualche modo alla salute mentale o comunque ad un processo legato alla salute mentale in questo caso parliamo di maternità la compagnia Fanny Alexander che è una compagnia appunto molto nota che ha fatto anche che ha già parlato di maternità attraverso il lavoro di Elena Ferrante portando in scena un testo di Elena Ferrante proprio sul tema della maternità alla figlia oscura in questo caso la maternità è un romanzo di Sheila Eti che appunto la compagnia Fanny Alexander porta in scena in qualche modo anche coinvolgendo il pubblico perché il pubblico avrà dei telecomandi e dovrà rispondere a delle domande in maniera molto netta con un sì o con un no attraverso questi telecomandi e la appunto Chiara Lagani che è protagonista in scena si relazionerà con queste risposte legate alla maternità ma non appunto le risposte sono sì o no bianco e nero ma davvero la maternità di maternità si può parlare in questo modo diciamo ci si pone delle domande e quindi diciamo che lo spettacolo ruota intorno a degli interrogativi che la protagonista si pone rispetto al tema della maternità rispetto a quello che le persone che sono presenti in quello in quello spettacolo in quella serata si chiedono sulla maternità a stare in scena stasera e domani sera appunto a Olinda sperando che il tempo regga perché Olinda si svolge all'aperto quindi speriamo che il tempo regga che possa permettere l'autorogimento dello spettacolo tutto quello di Olinda è veramente quello di Davicini nessuno normale è uno dei festival ormai dicevi di 25 anni dicevi 25 anni e c'è di tutto davvero fateci un giro andate a vedere su internet perché c'è teatro c'è musica c'è anche da mangiare c'è veramente di tutto c'è tanta musica tanto teatro e ogni anno ci sono cose interessanti che passano da Milano grazie appunto a questo appuntamento con Davicini nessuno Davicini nessuno è normale Tamara grazie per i tuoi suggerimenti ti chiedo ricordaci anche dove possiamo continuare a seguirti e vederti e ritrovarti grazie Fabio allora se volete seguire degli approfondimenti sul teatro oltre agli spunti che diamo qua in trasmissione Teatro Mania in onda il venerdì su Milano canale 191 del digitale sul diciamo su sul sito www.messi esatto su www.mediapason.it slash milano e invece lunedì in replica alle 23.30 su Antenna 3 canale 11 e conosciamo anche i protagonisti di quello che ci racconti io vedo sempre che vengono tanti ospiti a trovarti ti colleghi con chiunque in giro per il mondo quindi insomma c'è veramente facciamo degli approfondimenti quindi per cercare di capire cosa c'è dietro il pensiero di uno spettacolo come si raggiunge la realizzazione di uno spettacolo e ultimamente stiamo anche facendo degli approfondimenti letterari quindi delle possibili proposte di lettura per questa per quest'estate la lettura diciamo così va sempre bene però l'estate ci permette di avere più tempo e ci sono degli spunti di lettura molto interessanti perché cerchiamo sempre degli autori che vanno un po' al di là delle classifiche dei libri ma andiamo su temi che ci possano portare al di là di quello che conosciamo di quello che pensiamo di volere in qualche modo e quindi è sempre molto stimolante grazie qual è allora il libro che hai sul comodino in questo momento allora se dice così allora il libro che presento domani è Devi brillare che è un libro di Francesca Pellas sulla storia di Moana Pozzi perché quest'anno diciamo così ci sono sono passati 30 anni dalla morte di Moana Pozzi che è un personaggio che ha molto diviso diciamo così ed è un personaggio che noi siamo legati a un'idea di Moana Pozzi invece questo libro ci permette di aprire delle nuove finestre su una donna che ha fatto del suo corpo oggi che si parla molto di donna e di libertà ha fatto del suo corpo un'arma di libertà che poi può essere insomma con tutto quello che ne consegue diciamo però ricordiamo che stiamo parlando degli anni 80 e di un mondo che era molto diverso da quello di oggi o forse non era così diverso e quindi anche di questo si parla nel libro però devo dirti che l'ho trovata una lettura molto interessante perché attraversa l'idea di una donna che voleva essere diciamo così doveva essere in un modo invece lei ha scelto di essere in un altro combattendo contro qualsiasi tipo di incasellamento culturale in cui la volevano inserire e quindi la riappropriazione del proprio essere al di là del pensiero altrui insomma interessante buona lettura allora poi appunto seguite domani Tamara Malle che presenterà questo libro nella sua trasmissione quindi grazie Tamara ancora noi ci sentiamo giovedì prossimo e insomma speriamo di beccarci e ritrovarci magari a teatro anche ok? Certo l'abitudine del teatro grazie a te continua ogni settimana grazie Fabio e grazie alle tue collaboratrici a presto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici ciao grazie ancora Tamara andiamo con un po' di musica adesso è il momento di Sting con Desert Rose Desert Rose Sting insieme a Shab Mami Shab Mami sì una canzone questa qui storica di Sting degli ultimi anni in realtà negli anni 90 più o meno della sua produzione e questo è quanto 8 e 20 siamo qui che vi raccontiamo un po' tutto quello che succede a Milano quest'oggi abbiamo parlato anche di teatro vi abbiamo dato tre buoni consigli anzi io non ho fatto niente soprattutto Tamara Malleo che vi ricordo troverete di nuovo qui con noi giovedì prossimo sempre con i consigli di teatro sempre insomma con delle interessanti spunti su che cosa si può fare in questa città una città che offre davvero tanto a volte è complicato di stricarsi tra la marea di proposte che ci arrivano e per fortuna ci sono persone come Tamara che invece sono molto puntuali nel darci i giusti consigli per far diventare il teatro un'abitudine appunto l'abitudine del teatro continuiamo con la musica continuiamo con la musica i classici della musica italiana perché poi diamo un attimino in pausa poi torniamo qui ancora per l'ultima parte di trasmissione sempre qui in diretta su Cristal Radio grazie per i whatsapp che stanno arrivando al 33178 853 555 raccontateci diteci un po' quello che state facendo quali sono i progetti per la giornata o magari che cosa avete fatto ieri siete stati al concerto di Vasco Rossi ad esempio come è stato ieri sera adesso due giorni di pausa oggi domani e poi sabato ritorna ancora il Blasco a San Siro ieri c'erano anche gli Evanescence in fiera mi piace questa cosa che usano la fiera per fare i concerti mi sembra un luogo abbastanza adatto per far arrivare migliaia di persone ad ascoltare dei concerti quindi insomma mi sembra che l'estate musicale di Milano vada alla grande da una parte dall'altra nota di margine ma tutto nella parte ovest di Milano viene fatto cioè è possibile che non ci sono venue o location che possono essere utilizzate dall'altra parte della città no tutto qua dal Latin Festival la Maura lo Stato di San Siro gli Ipodromos Night di Piazzare Lotto e anche adesso la fiera Michael Jackson con Thriller alle 8.36 di nuovo qui su Crystal Radio in diretta su 96.2 FM Dub Plus e anche applicazione per iOS e Android insomma se siete appassionati di calcio sicuramente ma io sono sicurissimo che sarete pronti per il match di sabato contro il Deren oppure quello di domenica contro il Ferroviario Maputo ecco no se non avete mai sentito parlare di queste squadre il Ferroviario Maputo se non avete mai sentito nominare queste squadre è perché evidentemente non mi seguite la Premier League della Mongolia oppure la Mozambola il campionato di Serie A del Mozambico ma perché dovreste seguire queste squadre cioè questi campionati è perché ragazzi siamo anche lì c'è una squadra di Milano che milita all'interno di questi campionati e anche nella MFL che è il campionato della Macedonia che però è appena finito mi spiace se mi parla a settembre chi è questa questa squadra è il Brera Calcio e abbiamo qui il manager il club manager il club manager buongiorno benvenuto come va tutto bene grazie grazie per essere allora il Brera Calcio è un nome storico del calcio milanese Brera insomma è una zona una squadra che ha avuto tante vicissitudini si pelli mi verrebbe da dire proprio però poi alla fine è rimasta comunque legata a Milano assolutamente la portiamo anche nel mondo come Armani giusto giusto no sicuramente in realtà è un nome che è molto addisonante a calcio ma ha meno di quanti anni di vita di quanto si possa pensare nel senso che mio padre tra l'altro la fondò nel 2000 che sembra una vita fa ma alla fine è sempre lo stesso secolo e la fondò nel 2000 eravamo in serie D riapprimmo un'arena civica dopo 40 anni che non ci giocare più nessuno a calcio anche se adesso è un po' trending giocare a calcio in un'arena civica fate fate avevamo Walter Zegra che aveva appena smesso di giocare come allenatore che è un po' come avvene adesso Buffon che ho fatto i dovuti paragoni e e diciamo da lì poi comincia tutta un'esperienza nel calcio direttantistico milanese purtroppo sempre un po' più a scendere che a sanguignare quindi dalla serie D siamo andati un po' vingiù non è solo un mondo facilissimo da scalare no giusto Leonardo no no soprattutto quando ti approcci già mio padre iniziò in serie D così perché sono più vicino al professionismo però in realtà chi conosce il calcio direttantistico sa quanta difficoltà c'è nell'essere in serie D nell'arrivare al massimo campionato direttantistico infatti lo sperimentammo sulla nostra penne Leonardo Leonardo Leotti appunto club manager giusto questa è la tua ecco avete però ultimamente pensato come dire una bella pensata nel senso che la cosa interessante è che in questo momento nel mondo ci sono dei tifosi oltre a quelli di Milano che possono tifare che tifano Brera Calcio proprio Brera Calcio non è che è un franchising ma l'avete chiamato non è l'Inter Miami che non ha connessione con l'Inter ecco infatti non è che avete il nome no è proprio la vostra società siamo noi siamo noi tre campionati nel mondo tre campionati nel mondo ok e l'idea è stata tre campionati nel mondo e non del mondo non è che vincono i campionati nel mondo no però chissà che magari chissà non vince spieghiamo poi di spostare quel Nel in Dell esatto noi a differenza siamo pronti per il mondiale per club campioni nel mondo invece non campioni del mondo no sì in realtà appunto dopo 2000 per 23 anni siamo stati nei direttanti a Milano facendo tantissime cose adesso anzi ti ho portato un libro ah un libro anche wow questo è un libro che non so se si può mettere a favore di camera la terza squadra di Milano storie e idee del Brera Football Club narrate appunto dal suo fondatore Alessandro Otti che è tuo papà esattamente eccolo qua il Brera Football Club lo faccio vedere anche a favore di camera per chi ci sta seguendo in video e quindi insomma questa è la storia appunto una storia diciamo solo dal 2000 ma che sembra veramente una storia di 200 anni con le cose che avete fatto esatto in realtà questo è appunto infatti questo è dei primi 18 anni di storia quindi figurati si ferma al 2018 e non mancano gli ultimi 6 anni che hanno avuto un sacco di sviluppi ma è comunque diciamo c'è comunque un sacco di storia dentro no dicevo fino al 2023 appunto siamo stati una squadra indirettante a Milano poi a seguito di un interessamento di investitori americani te la faccio breve ci siamo quotati al Nasdaq anche se tecnicamente non è una frase corretta ma per semplicità di comprensione e quindi questo ci ha portato a voler portare il progetto del Brera nel professionismo ok visto che qua in Italia portare il professionismo quindi in serie C vabbè oltre a essere molto oneroso però i soldi comunque avevano raccolti quindi però era più la venetarianità di fare una terza squadra a Milano questa terza squadra di Milano è il payoff di ormai 24 anni fa nel senso ormai un concetto abbastanza vecchio ok Inter e Milano si sono talmente consolidati in questa stratosfera rispetto al resto non sono neanche la prima la seconda squadra di Milano non sono più di Milano sono squadre globale e quindi anche noi siamo cercati di essere una squadra globale e quindi diciamo non c'è a Milano uno spazio per una constituency così diciamo affezionata come dovrebbe esserci nel professionismo quindi invece che è un'espansione appunto verticale abbiamo deciso di attuare un'espansione orizzontale quindi creano una serie di barriera in giro per il mondo nelle massime categorie di ciascun paese anche se sono paesi relativamente minori tutte con lo stesso logo circa con lo stesso nome con gli stessi colori con la stessa identità l'idea era portare una squadra di Milano appunto a giocare nel mondo è vero perché il logo è sempre praticamente lo stesso visto che c'è la bandiera italiana da una parte dall'altra da una bandiera in cui è il paese esatto poi sotto c'è scritto in no perché poi sono ovviamente denominazioni geografica diverse però diciamo quello è un po' un razio mi piace pensare a una squadra di calcio un po' come a un vino con la denominazione di origine controllata esatto non è complicato perché noi siamo in Mozambico io sono stato in Mozambico a novembre a una finale dei playoff vediamo come stanno in Mozambico cioè qui le classi in Mozambico siete decimi in questo momento si non siamo messi benissimo ma è appena iniziato il campionato è appena iniziato una neopromossa infatti dicevo io sono stato a novembre per la finale dei playoff di Serie B che abbiamo vinto ed era fantastico dopo un solo anno neanche un anno di esistenza lo stadio era pieno di tifosi con una maglia nero vera mi sembra di essere entrato in una dimensione parallela perché ovviamente comunque avete appena pareggiato con la seconda in classifica con un gol al 93 è un bellissimo grosso punizione tra l'altro abbiamo perso 1 a 0 con la prima in classifica non stiamo andando bene tanti ragazzi giovani nazionali mozambicani andando a 20 il talento c'è obiettivamente invece in Mongolia visto che avete vinto 3 a 2 l'ultima ci siamo salvati fuori casa e bisogna giungere un'altra adesso poi 15 giocate contro il Deren ho visto che quella sono forti ma li abbiamo battuti in ultima partita con un gol incredibile anche lì all'ultimo minuto di un ragazzino che non aveva mai giocato c'era una storia un po' così da film e no in Mongolia in realtà abbiamo preso una squadra che era ultima abbiamo fatto il rebranding è stata la più recente delle tre squadre ok abbiamo fatto il rebranding a febbraio a marzo ha cominciato la seconda parte del campionato perché in Mongolia giocano da agosto a ottobre 9 partite ok poi fa freddissimo va a meno 40 meno 30 la temperatura quindi smettono di giocare fino a marzo a marzo ricominciano in questa tensostruttura che è un po' alienante ah ci giocano a coperto per un mese e mezzo giocano lì e poi il resto sono 18 partite quindi ne faranno 5 lì e poi in altre 14 ce ne fanno a uno stadio usano tutti nello stesso stadio che è quello della federazione quindi è come fosse un microstato sostanzialmente usano tutti in realtà per una grande tre volte in Italia ma sono tre milioni di abitanti un paese stranissimo infatti non deve essere qualcosa io verrò a fare una telecronaca voglio venire a fare una telecronaca del Brera Calcio guarda noi comunque le partite sono tutte un ambatore sono tutte in diretta tra le partite quindi in realtà ci possiamo attaccare con segnale voglio andare là ci possiamo attaccare con segnale voglio andare là un ambatore uno dei grandi miti della mia vita grandi mette che prima o poi devo raggiungere la cosa interessante è che avete portato questo brand nel mondo come sta andando questa esportazione totalmente italica che è una cosa che facciamo tranquillamente in altre situazioni prima abbiamo nominato Armani non è la Ferrari non è un problema nessun'altra azienda avremmo detto ma che roba strana che fate ad andare a portare il vostro brand anche un vino ai cinesi che ne so ad esempio senza mettere in dubbio il fatto che il vino a quel punto che produca e venda in Cina non è cinese ma è comunque c'è armata in cittadina infatti che appunto torniamo sulla denominazione dove c'è con Donnata e invece quando avete fatto questa idea tutti hanno detto ma che roba strana che cosa state facendo infatti poteva essere più strana nel senso che in senso che in senso di fare una roba del genere cioè potevi portare il campionato mongolo qui in Italia anche una bella tour nera no però in senso appunto che siamo una squadra di Milano che gioca simultaneamente in tre massimi campioni siamo effettivamente la terza scuola di Milano in serie A adesso non più la terza scuola dei professionisti perché c'è un'arrivata in C ma la terza scuola di Milano in serie A certo non in serie italiana ma in serie del mondo e sarebbe stato più strano se fossimo stati ancora a Milano perché il senso era proprio questa sparizione del contesto milanese locale in modo tale che la scuola è di Milano ma non gioca a Milano perché voi a Milano non giocate più adesso in realtà non giochiamo più ma adesso stiamo pensando a un progetto che ha più a che fare con diciamo come per gli americani con il nostro spirito ISG cioè con la nostra spieghiamo la spirito come si dice vocazione e impatto sociale ah ok ok più in italiano ok no facciamo ripartiremo proprio da un basso perché come siamo partiti da un alto nel 2000 adesso invece ricominciamo la nostra scarata da un punto di vista calcistico ma in generale la nostra esistenza da un basso e faremo questa squadra con tutti i ragazzi universitari ok noi abbiamo sempre in questi 24 anni si raccontano le diverse vicissitudini e abbiamo fatto tante cose con diversi gruppi sociali cioè sia da un caccio nel 2003 nel 2003 mio padre fece l'ifariopera a Brera che fu un grande caso mediatico e tra l'altro appunto un progetto molto importante che richiese una grande mediazione tra FIGC e il ministero della giustizia ma invece appunto sugli universitari abbiamo fatto cose con come si dice con i migranti abbiamo fatto una nazionale dei Rom dei Rom e Sinti abbiamo giocato contro la Padania in Arena benissimo si avete fatto il campionato del mondo dei popoli sì dovevamo partecipare avevamo stati selezionati in Mondiale Seneva in Abkhazia che è una repubblica indipendentista sono i campionati dove ci sono tutte le nazionali delle repubbliche non riconosciute indipendentiste è un po' la metà tra la Catalogna credo ci sia quella è quella più famosa diciamo c'è in Abkhazia c'è il Tibet c'è in Curande ci sono sia indicazioni territoriali diciamo stonicamente motivate da un punto di vista etnico fondamentalmente sia un po' invece stati canagli un po' come appunto in Abkhazia questi posti che riconosce sono la Russia giusto forse abbiano la Russia quando parli di Canaria pensavo si parla della Padania scherzo scherzo non è ancora un esercito invece in Abkhazia si è un governo indipendente infatti non si entra dalla Georgia lo so bene è stato fermato a quel confine dalla polizia georgiana Google Maps mi diceva che facevo prima e quindi ho detto scusate giro la macchina e quindi dobbiamo andare a volare su soci e poi scendere giù dalla Russia per andare in Russia siamo arrivati per aver visto il passaporto purtroppo nella nostra squadra il passaporto ce l'avranno in due quindi ho detto vabbè pazienza facciamo una richiesta a quest'una motivazione appunto il caso di forza maggiore te lo fanno anche in tre giorni e ci prendono in carico tutti i documenti ci richiamano dopo qualche giorno per dire guarda dei 15 passaporti delle 15 richieste che ci avete mandato in tre possono avere i passaporti gli altri 12 hanno carichi pendenti non era proprio non era fattibile quindi in questo club di teatro diciamo devolviamo la nostra partecipazione alla padana che invece è stata esclusa questo gesto di amicizia a patto che facessimo un amichevole diciamo perché è un'arena a casa nostra tra l'altro tra le due nazionali anche perché è un messaggio tra l'altro nel giorno della commemorazione del popolo rom dell'onocausto che adesso non ricordo come si dica in lingua romanì però facciamo questa amichevole perché il senso del calcio il potere del calcio che è un grande strumento di medicina sociale imbattibile è proprio che ha dei contenuti dei significati di eguaglianza di di rispetto reciproco che sono intrinsechi senza farci troppe sovrastrutture cioè nel momento in cui scendi in campo con una squadra la base del nazismo nasce dalla perché sto divagando ma comunque la base del nazismo nasce dalla diciamo mancata considerazione dell'interlocutore nel tuo stesso livello nel momento in cui sei su un campo da calcio al di là del risultato sei per fortuna ontologicamente lo stesso livello questa cosa che lo sport in questo caso il calcio ma ricordiamo la storia del rugby in Sudafrica cioè comunque riesca ad allineare ad abbattere barriere e ad allinearsi tutti sullo stessa lunghezza d'onda per poi dopo magari dialogare anche su cose che invece vivono fuori dal campo secondo me l'importante è conoscere lo sport nel senso che alla fine poi fanno una cosa un pupazzo rischi di essere danneggiati allora Leonardo rimandi qui con noi perché adesso andiamo con una canzone poi ci ritorniamo qui per i saluti finali ma io spero e vi auguro prima o poi di trovare il brana calcio anche in uno di quei videogame che si usano sarebbe bellissimo è il mio sogno FIFA 2027 lo allungo un po' così per comportare sfiga e posso scegliere il brana calcio in qualsiasi nel mondo c'è qualcosa poi mi prendo messi e me lo metto dentro c'è cosa del genere perché questa prevenza perché vabbè vi faccio sentire una canzone dei blur che molti di noi soprattutto se negli anni 90 giocavano a FIFA si ricorderanno perché era proprio l'inizio del gioco sono parlato di blur con Song 2 Select Player Brera Calcio così dovete fare con la Playstation ma chissà che magari oggi non si farà questa era blur erano i blur con Song 2 siamo qui ancora con Leonardo per parlare appunto di Brera Calcio insomma Leonardo Leotti club manager è appunto la tua squadra cosa possiamo fare noi milanesi per avvicinarci al Brera Calcio invece allora intanto seguirci su tutti i social che è sicuramente un ottimo viatico per conoscere meglio la squadra poi abbiamo un sito con tutta la storia quindi se una gente interessata a approfondire ha fatto anche molto bene il sito molto interessante grazie grazie lo passerò al reparto IT questi complimenti e dopodiché effettivamente uno dei grossi limiti che abbiamo avuto quest'anno è del fatto di non avere una squadra a Milano perché effettivamente la Macedonia è comunque vicina sono un'ora da un'ora e venti da Milano Salonicco quindi si arriva comodi poi si mangia anche molto bene per strada è piacevole però effettivamente non è per tutti i weekend e Mozambico e Mongolia è una volta nella vita è un po' come il pellegrinaggio alla Mecca e però noi l'anno prossimo appunto come ti dicevo torneremo a fare una squadra a Milano da scarso contenuto calcistico devo dire questo non so se poi che significa che cosa cosa significa in realtà non è vero diciamo io cerco sempre di sminuire questa operazione a Milano perché noi iniziamo inserire nel resto del mondo quindi essere in terza categoria a Milano obiettivamente se la mettiamo dal punto di vista calcistico però non credo sia quello l'obiettivo milanese no infatti secondo noi il calcio deve creare comunità appunto noi puntando su questa giovane comunità di università di milanesi ce ne sono tantissime abbiamo tantissime ottime università a Milano quindi la gente viene da fuori apposta per studiare e vogliamo puntare sulla qualità che questi calcistiche in questo caso che questi studenti offrono e abbiamo anche un ottimo allenatore un ragazzo inglese che allenava Jadon Sancho che adesso è in Champions League però lo allenava in Watford nell'Under 15 quindi il contenuto calcistico c'è a volte di Under 15 e di giovanissimi in realtà uno dei progetti che continuate a portare avanti dal 2016 a Milano è quella della scuola calcio però dove però forse anche lì scuola calcio andiamo a dire scuola calcio non competitiva ecco perché spiegami bene questa cosa è molto interessante non competitiva ma poi è sempre un po' un misleading il tema è che questa è una scuola calcio ludica cioè fatta per il puro divertimento dei bambini che è un che a Milano diciamo in generale in Italia è un concetto che va in contratendenza con le scuole calcio che ci sono nel senso che poi le scuole calcio sono tutte gestite da squadre di calcio e quindi servono alla formazione di piccoli calciatori l'obiettivo è sempre quello che era il grande campione che poi mi porto nella prima squadra invece noi no in realtà questi vengono i bambini vengono come se fosse una lezione di tennis io mi ricordo facevo tennis nuoto da bambino non ho mai pensato di fare gare di diventare Michael Phelps però andavo facevo una mia lezione di un'ora un'ora e mezza e poi tornavo a casa questa scuola calcio rispetto a un'altra scuola calcio ha questo tipo di contenuto nel senso i bambini vengono fanno allenamenti una volta due o tre settimane a scelta loro di un'ora e mezza in cui fanno un po' di esercizi per mezz'onetta poi giocano tantissimo che un po' diciamo io sono abbastanza giovane da non ricordarmi anche se giocavo i giantinetti però però quando si giocava a un parco con gli amici eccetera che adesso in metà come Milano non è più francamente possibile c'è tutti i temi di insicurezza eccetera e invece qui è possibile ed è possibile tanto nel contesto più bello che possa essere nel senso che siamo in un'arena civica in un stadio di Napoleone oltre 200 anni di storia in pura centra di Milano e i bambini vengono tanto il comune ha fatto un ottimo lavoro facendo il campo e la pista quindi è un posto stupendo in cui poi soprattutto le giate di sole purtroppo non ne abbiamo moltissimo ultimamente questo non è detto secondo me ottobre novembre avevamo un sole pazzesco perché ovviamente è tutto sfasato infatti e quindi sono 19 anni che andiamo avanti siamo partiti da questi vedi 10 bambini questo c'è anche il mio fratello ah sì questi 10 bambini e adesso ne abbiamo 200 quindi sei voluta una situazione insomma un altro buon motivo per tifare per la calcio per noi milanesi appunto non è tanto che secondo me è anche interessante questo tifare una squadra non tanto perché ci porti chissà quale risultato immediato nel campionato ma per lo spirito che porta avanti a Milano con questa scuola calcio a Milano con le iniziative e poi appunto la squadra universitaria è molto interessante che inizierà con il prossimo campionato prossimo campionato a settembre e con invece le tre squadre nel mondo rimarranno tre volete prendere più tutti i tre torneranno a due il mio sogno è andare anche in Oceania abbiamo avuto non so se non è coperto da NDA quindi posso dirlo abbiamo avuto un mezzo contatto con la federazione delle figi delle figi se è un progetto fighissimo purtroppo ebbè ovvio le figi non può essere figissimo scusate scusate ciao grazie domani grazie scusami però purtroppo non è andato a buon fine più per questioni loro organizzative dovevano partecipare a un super campionato dell'Oceania poi è una federazione oceanica che non si è organizzata in tempo io mi immagino già c'è la squadra di bollate che deve andare a volte a pavia a giocare già problemi c'è lì devi prendere i navi le figi partiti da Milano no ma si è un bel ampio ma più che altro avevamo partecipato come rappresentanti delle figi in questa pro-rig oceanica quindi giocavamo con la nuova Zelanda quindi un sacco di aerei dovevamo prendere infatti va bene allora grazie mille seguite il Breracalcio brerafc.com alle otti la squadra del Breracalcio e anzi saluteci tutta dal Breracalcio allora va bene? assolutamente vi salutiamo tutti i nostri tifosi in tutto il giro per tutto il mondo infatti a tutti quanti no no portaci in Macedonia in Mongolia e appunto anche in Mozambico dopo di noi senti questa con Ambrogio Curti come sempre alle 9.05 anzi oggi in ritardo perché noi siamo in ritardo dopo il giornale radio con senti questa Ambrogio Curti noi torniamo come sempre domani mattina dalle 7 alle 9 qui in diretta su Cristal Radio 96.2 FM da Plasti tutta la Lombardia le applicazioni il sito lo sapete se volete risentire l'intervista con Leonardo Leotti e il Breracalcio potete farlo su goodmorning.milano.it dove ritrovate sia l'audio il podcast sia il video ci trovate anche su Spotify insomma è impossibile non trovarci siamo un po' come il Breracalcio siamo ovunque infatti adesso ci pensiamo facciamo un com'è che si chiama Stumica Stumica Stumizza il posto di Macedonia esatto Elisa prepara goodmorning Stumizza dall'anno prossimo io te lo dico appuntamento domani allora dai domani mattina alle 7 siamo qua mi raccomando grazie ancora per i whatsapp grazie per la vostra compagnia come sempre Cristal Radio Milano si sente e questo è il vostro goodmorning Milano la vostra sveglia mattutina grazie a tutti ancora per averci seguito a domani ciao 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 ciao